Torna la stagione dei concerti della società Primo Riccitelli nella versione Primavera-Estate 2021. Al via a Tenamo dal 3 giugno con i concerti per piano e violino negli spazi della Sala Polifunzionale, Università e Archivio di Stato. A luglio e agosto si terranno i concerti in collaborazione con il Comune di Tenamo per Natura Indomita, ma torneranno anche gli itinerari sonori nella Pineta di Bellante. Concerti anche a Tortoreto e Castelbasso con il No Festival, 10 eventi con nomi di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Il nostro momento di ripartenza ci auguriamo, come vediamo, che lo sarà per tutte le associazioni che si occupano di eventi culturali e artistici. Siamo particolarmente contenti, come è ovvio, di ripartire e speriamo di ripartire senza poi doverci fermare successivamente. Facciamo una stagione concertistica che copre diversi settori musicali, ovviamente quello della musica classica, che è la nostra tradizione e quello per cui la Riccitelli va meritatamente famosa. Però abbiamo anche in programma concerti di musica jazz, qualcosa anche di musica pop, senza ovviamente andare troppo in là. I concerti sono tantissimi, sono fatti per la maggior parte a Teramo, come è ovvio, però anche nel territorio li faremo anche al Comune di Tortoreto, li facciamo a Bellante, li facciamo a Castelbasso, insomma ci siamo mossi per tutta la provincia e soprattutto collaboriamo con quelli che sono i partner istituzionali, da Riccitelli naturalmente, Comune, Provincia e così via, ma anche con altre associazioni del territorio perché questo è per noi un segnale anche di ripartenza a tutti insieme, per quello che è più possibile. Grazie a tutti.